La nostra preghiera oggi è per queste famiglie che sono nel pianto, per le famiglie di Tullio e di Giuseppe, distrutte da una ferita irreversibile, da una spada che trafigge il cuore, da una mancanza impossibile da colmare, a cui solo il tempo e la fede daranno consolazione. Sono le parole dell'Arcivescovo di Napoli, Monsignor Domenico Battaglia, che ha ufficiato la funzione ieri pomeriggio nella chiesa di San Ciro a Portici. Familiari e amici hanno gremito la chiesa per dare l'ultimo saluto a Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro, i due giovani uccisi a colpi di pistola la notte tra il 28 e il 29 ottobre scorsi ad Ercolano. Ma la nostra preghiera, detto ancora l'Arcivescovo nel corso dell'Omelia, è anche per i familiari di chi ha ucciso questi due nostri figli, facendo precipitare nel dolore, nella disperazione e nello smarrimento anche la propria famiglia, anch'essa addolorata e basita per quanto accaduto. A voi genitori mi rivolgo non da sindaco ma da padre. Sono le parole del primo cittadino Enzo Cuomo e dico che in questa tragedia abbiamo scoperto che quello che è successo a Giuseppe e Tullio sarebbe potuto capitare ad ognuno di noi, ad uno dei nostri figli. Continueremo ad essere a fianco delle vostre famiglie, per la ricerca della verità assoluta e soprattutto della giustizia, quella giustizia che vogliamo tutti insieme e che chiederemo, non con rabbia, ma con quella serenità di chi aspetta dalla giustizia un momento di verità e di punizione per chi compie dei reati tanto crudeli e tanto gravi. Tra lacrime e commozione non è mancato un lungo applauso e un lancio di palloncini bianchi all'uscita delle bare dalla chiesa.